Giuseppe Marchese Ragona di Canicattia, arrestato lo scorso settembre perché sorpreso con una piantagione di canapa indiana scoperta dai carabinieri nel suo appezzamento di terreno a Naro, lascia gli arresti domiciliari. A disporlo il giudice per indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, che accogliendo le stanze della difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Paolo Ingrao, ha sostituito la misura dei domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Nel fondo del Canicattinese i carabinieri, a seguito di un blizz, trovarono oltre 200 piantine in avanzata fase di maturazione. I militari hanno fatto eruzione in un garage dove hanno sorpreso l'imprenditore agricolo 44enne mentre era intento a maneggiare un grosso quantitativo di marijuana già essiccata in un terreno adiacente e poi l'incredibile scoperta di una maxipiantagione, 200 piante di marijuana alte ben oltre 2 metri. centinaia di migliaia di euro è il potenziale valore al dettaglio dello stupefacente sequestrato. L'uomo, che non è stato in grado di fornire alcun tipo di autorizzazione, dovrà adesso rispondere di coltivazione.